Quando la battaglia è appena terminata, una nuova sfida sta per cominciare. La sfida del pulito. E anche dietro le quinte, tutto deve funzionare alla perfezione. Non dimenticate mai che tutto dipende da lei, la lavastoviglia. Con il tempo, grasso e calcare si accumulano al suo interno e non potete certo lavare i piatti in una lavastoviglia sporca. Per mantenerla sempre come nuova, da oggi userete Finish Cura Lavastoviglia. Rimuove tutte le incrostazioni di grasso e calcare dalle parti più nascoste della macchina. E lei è sempre come nuova. Finish Cura Lavastoviglie. Lavastoviglie come nuova. O ti rimborsiamo.